Nel quarto trimestre del 2021 sono state aperte 106.409 partite IVA con un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La distribuzione per natura giuridica mostra che la maggior parte delle nuove aperture di partita IVA è stato operato da persone fisiche, seguono le società di capitali. Il 45,5% delle nuove aperture è al nord, circa il 23% al centro e il 31,2% al sud e isole. I principali aumenti di aperture sono avvenuti in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Trentino, mentre i più rilevanti cali si notano in Veneto, Molise e Sicilia. Il commercio registra sempre il maggior numero di avviamenti di partita IVA con il 22,4% del totale, seguito dalle attività professionali e dal settore edile. Proprio l'edilizia è il comparto che fa segnare l'aumento più consistente, seguito dalle attività artistiche, sportive e alloggio e ristorazione, mentre sono in calo sanità, agricolture e servizi di comunicazione. Valorizzare l'offerta turistica del bel paese per gli italiani all'estero è quanto prevede un accordo firmato tra i Ministeri della Cultura e degli Esteri, che dà il via al progetto Il Turismo delle Radici. L'iniziativa si inserisce nell'investimento per l'attrattività dei Borghi, nel Peno Nazionale di Dipresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo, circa 80 milioni. A metterlo a punto, la Farnesina è il Ministero della Cultura grazie ai contributi di un tavolo tecnico sul turismo delle radici, avviato sin dal 2018 in collaborazioni con regioni, enti locali, centri accademici e di ricerca. Avranno un ruolo nel progetto anche musei, biblioteche e operatori turistici. Le comunità italiane all'estero verranno così coinvolte in tutto il mondo sia nella valorizzazione dell'offerta turistica, sia in una strategia per invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani. Ritrovare le radici permetterà una riscoperta a tutto tondo dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini, anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. Un viaggio per riconoscere e promuovere l'elemento identitario dell'Italia e sostenere attivamente il rilancio post-Covid del turismo e dell'economia. Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore l'obbligo per gli sciatori di sottoscrivere un'assicurazione che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi, una sorta di RC auto per gli sport invernali. Per questo è nata Genertel Ski, la nuova soluzione proposta dalla compagnia assicurativa diretta di Generali Italia. In particolare il prodotto Genertel Ski copre anche il soccorso, copre gli infortuni e copre l'assistenza attraverso la nostra partnership con Europa Assistance. Il prodotto Ski Plus invece aggiunge a queste garanzie ulteriori coperture, in particolare due coperture nel pacchetto base e tre coperture ulteriori facoltative. Nel pacchetto base abbiamo compreso la tutela legale e la diaria da ricovero, in quelle facoltà di cui abbiamo aggiunto l'imperità permanente o decesso per infortunio e il rimborso per i danni all'attrezzatura, piuttosto che il rimborso per lezioni di sci perse o ski pass persi. Il nuovo prodotto assicurativo si attiva già mezz'ora dopo l'acquisto e rientra nella strategia di Genertel sempre più digitale. Noi abbiamo lanciato la nostra nuova Genertel digitale in ottobre al mercato e abbiamo proprio detto da subito che la tecnologia l'avremmo messa al centro dell'esperienza cliente e della macchina operativa. In particolare stiamo cercando con questa nuova Genertel digitale, abbiamo, non stiamo cercando ma abbiamo unito una macchina operativa efficiente per poter garantire un'esperienza cliente di eccellenza. Quindi la tecnologia per noi è fondamentale per poter dare al cliente un'esperienza distintiva. L'Istat ha certificato per il 2021 un aumento del PIL più 6,5%, addirittura era dal 1976 che non si verificava un aumento così sostanzioso, quindi oltre 45 anni. Ma purtroppo il 2022 è tutto da scrivere perché pandemia, aumento delle utenze e inflazione ci danno un futuro meno rosio rispetto all'anno precedente. C'è bisogno di un intervento energico del governo soprattutto per quanto concerne le utenze che rischiano di far chiudere tante imprese e mandare in povertà tante famiglie.